Buon venerdì, benvenuto in un altro video ASMR del Marlisa, i video di marzo sono tutti dedicati a Lisa Pt, Marlisa per questo motivo, trovate proprio la playlist come ho fatto per il Paolari, per i video di febbraio, febbrai dedicati a Paola, nella playlist c'è sia il Paolari che è il Marlisa, date un'occhiata alla voce playlist sul mio canale perché se siete amanti dei baci, ci sono tanti baci, se siete amanti dei cucchiaini c'è la playlist dei cucchiaini, dei temporali, temporali, è tutto, whispering, c'è tutta la playlist ragazzi. Questo video sarà un video perfetto, se puoi rilassarti, indossa le cuffie e coditi questo video ASMR, indossa le cuffie e codi col mio ASMR, prenditi questi 15 barra 20 minuti di puro relax. Da questo momento in poi, starai sentendo questo suono che gira, gira in maniera stereofonica, il cosiddetto 8T. 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 È stata una settimana dura, vero? via tutto lo stress. Tagliamo via tutto lo stress della settimana. ragazzi! In un certo momento, passiamo via tutto lo stress, di Thirty Guidarescuuto. Abbiamo detto, Orlando eei, del futuro sicure thati cosiddetto può riassareola. No, quello che si ağrò della settimana con le bellezza succede qui ollege le dati spent, Questo video è perfetto per rilassarti il fine settimana, mettiti comodo o comoda, e predisponiti al relax. E' un po' di figure che si può fare, e' un po' di figure che si può fare. grazie a tutti Grazie a tutti. Tranquillo Francescone, non pare top top. Grazie a tutti. 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 Buon appetito. 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 è stato bene Federica, vai bene, è bizarro Sargento 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 RELAXE Francescone grazie per i 4 mesi di SAP con questo profilo le promesse vanno mantenute mi sa che il prime però non ce l'hai libero perché questo è pagato con il cash, grazie Francescone come ogni sera siamo in live sull'app Viola amici di Youtube quindi iscrivetevi anche all'app Viola se volete vedere le live in tempo reale se non volete soltanto accontentarvi dei video e peccarmi in live il profilo si chiama Marso94 ragazzi saluta da Youtube Francescone comandante, sergente vice capitana Federica Dadia devo dire che qui in live si sono attormentati si sono lasciati andare c'è Federica Dadia buonasera Elisabetta Panettone buonasera un bacione quindi per questo video del venerdì con questa musica stereofonica in 8D e un mix di trigger soporiferi e tutto spero che questo video vi sia piaciuto qua vi stanno salutando ancora ci vediamo in un prossimo video probabilmente domenica un bacio ragazzi dobbiamo fare però la copertina dobbiamo fare vediamo la copertina potrei farla così tipo tipo una roba così proviamo a vedere una anche se forse è meglio tipo una roba di bu tipo tipo amén